Ragazzi, siamo intorno a qua, sirventese, è una lingua dell'antico francese, suppongo, è ispirato anche, vabbè, per Dante, da Dante fu definito il miglior fabbro, Arnaud Daniel, siamo nella lirica del Trobar Clou, quindi dei trovatori provenzali, che poi nel Novecento, dice qua, influenzarono Elliot, George Elliot e Ezra Pound, quindi tutto da esplorare, nel senso che è quella parte del Novecento che appunto riprende il linguaggio come opera musicale. Quindi abbiamo parlato di musica e ne abbiamo parlato per il piacere di parlarne, alla fine perché la musica è bella, è divertente, si sente ad orecchio, persino un bambino si diverte, cioè è elementare, credo sia intuitivo e diciamo alla portata di tutti, il fatto musicale da non doverlo spiegare ulteriormente, anche se poi ovviamente si potrebbe spiegarlo all'infinito. Però abbiamo parlato anche di letteratura, però la letteratura invece non abbiamo capito cosa sia, un po' come Carmelo Bene il teatro, noi non abbiamo capito cosa sia questa letteratura. Allora ritorniamo alla musica. Arnaud Daniel era un musicista, suonava l'iuto, o comunque lo faceva suonare a un assistente, a un musicista, perché la lirica provenzale non a caso lirica, la parola lirica attribuita alle poesie viene da qui e anche la parola lirica attribuita comunque alle opere di lirica soprana e tenore e baritono. E perché? Perché cantavano, queste sono le proprie canzoni, poi riprese anche da Petrarca che scrisse il canzoniere, quindi non vi voglio far sembrare che si tratti di cantanti, insomma bisogna contestualizzare, comunque siamo nel, abbiamo detto, coevi, insomma poco prima di Dante, tant'è che Dante lo deve definire il miglior fabbro, ed è il trobar clou, nella lingua d'oile, d'oic, lingue francesi antiche appunto. Ma quello che ci interessa è proprio questo legame tra, cioè questo, se noi capiamo cos'è la musica e non capiamo cos'è la letteratura, allora dobbiamo capire che la musica e la letteratura sono state spesso abbracciate, sono state spesso abbracciato e qui per esempio queste canzoni dovrebbero essere cantate, si chiamano appunto canzoni e non a caso hanno influenzato, come dicevo, non mi sto a ripetere, George Eliot, Ezra Pound, specialisti del linguaggio cantato e musicale ancora nel secolo buio, fin nel novecento, che ovviamente è un secolo buio, cioè è un secolo molto diverso da quello in cui scrisse più di mille anni prima, Arnaud Daniel. Arnaud Daniel non è l'unico, c'è poi un altro libro attribuito a lui, ma probabilmente non suo, libro di Doc, ora non mi ricordo il nome, è un libro che viene appunto tramandato solo come libro, non c'è autore, vabbè andiamo a leggere qualcosa. Iniziamo dall'inizio, poi quando comprerò l'hand pen, potete vedere uno short dei miei, su che cos'è una specie di hand pen, poi ne comprerò uno, profizionale andremo a recitare anche musicalmente, provando magari a capire se c'è un legame effettivamente musicale con queste parole. Canzone di parole semplici, per esempio anche Giorgio Caproni, quando parla della sua canzone, canzone, fai in fretta, prendi la bicicletta, poi Lucio Dalla che appunto canta canzone, inseguila se vuoi, cioè il poeta, l'iricista, chiede alla canzone stessa, alla poesia, di fare qualcosa. Giorgio Caproni diceva appunto canzone, va, seguila, fai in fretta, prendi la bicicletta. Quindi è tutto una contaminazione, cioè potremmo stare ore a vedere quanti poeti poi successive avranno dimostrato di aver letto questo libro, anzi addirittura forse tradotto, non vorrei fosse tradotto proprio da Giorgio Caproni, no, no, però sono sicuro che Giorgio Caproni ha tradotto, se non a uno Daniele, uno comunque dei Provenzali. E vedete come è tutto collegato, la canzone di parole semplici e insieme lette, dovrò comporre adesso che ogni vinco germoglie sugli alberi le più alte vette hanno il colore del proprio folto fiore e verdeggia la foglia e i gorgheggi e i richiami degli uccelli risuonano tra i rami del bosco dentro l'ombra. Odo i boschi riempirsi di gorgheggianti e di canti, non me lo rinfacciate, anch'io lavoro elevico parole di qualità che amore con la sua arte insegna, da lui non mi distacco anche se mi disdegna, sto dietro al suo sentiero, quanto più verso me si mostra altero, vale assai poco alterezza da amante che di continuo il suo sire ribalta dalla sede più alta giù per terra con tale cruda foga che lo denuda di gioia. Quando cade la foglia dell'intrico alto dei rami imperversa il gelo e si seccano il salice e il nocciolo, io vedo dentro il bosco a mutulire gorgheggi e alati suoni. Vedete, stiamo sempre dentro un bosco, i suoni della natura vengono paragonati ai suoni della canzone, quasi la canzone sgorgasse dalla natura senza mediazione. Ecco la maggiore, abbiamo trovato quale potrebbe essere il legame tra musica e letteratura, l'assenza di mediazione, cioè quanto più la lirica è musicale e si avvicina a lui tantomeno è mediata, quanto meno è musicale, quanto più è filmata o rappresentata, tanto più sarà mediata e quanto più sarà quindi incomprensibile o comunque non reale. Potremmo andare avanti a leggere nel tempo che sugli alberi tra i rami l'affronda, queste sono tutte canzoni appunto della natura, vediamo se c'è qualcosa di più. Vabbè, ora vi andrò a vedere... Sì, è tutto della natura, quindi per oggi, diciamo, la chiudiamo qui, la puntata, ecco, qui compare un personaggio, bella, fate la pace con Arnaud, non date bando a questa canzone, cioè come spesso appunto si parla della canzone quasi fosse un'entità composta dal poeta, creata dal poeta, che poi la manda, la invia, come dire, gli dà seguito e chiede fortuna per la canzone e per se stesso, quindi nominando anche se stesso, ricordiamo ora altre poesie che potrei anche trovare, che avevo visto, che mostrano proprio, in cui il poeta dice io sono Arnaud, sono un poeta bravo che scrive versi, cioè è anche una rappresentazione di sé dentro la poesia, dentro la scrittura. Ci sono dunque in amore diritti da vantare? No, può pensarlo solamente un matto. Amore sa incolparti se vuole anche del fatto che i francesi non sono guasconi, che la nave non giunge a Bari perché fa naufragio. Per colpe di tal genere io sono vicino a morte che i miei torti per Cristo non sono d'altra sorte. Ora ho imparato e la cosa mi piace come è duro staccarsi da quello che si ama. Più umile il mio cuore diventa sottomesso anche se lei per ora mi priva del suo dono. Mai cesserò di amarla, questo dico a me stesso, e se gioia di letto mi rifiuta, io sono più fermo quanto più mi si dimostra ostile. Ormai, signori e compagni, per Dio, prima che io vada in rovina pregate quella a cui resta legato il mio amore che abbia pietà di me come di cosa sua dite tutti non oso pronunciare il nome bella fate la pace con Arnaud non date bando a questa sua canzone. Quindi è una difesa del poeta di fronte all'amore il suo argomento diverso è un diverso tenore da questo che mi solito mi accade di cantare e non mi aspetto solo di comporre una bella canzone su questo mio dolore quindi capite che è una difesa a spada tratta di amore che lo incolpa persino che i francesi non sono guasconi quindi è tutta una serie di perbole che dimostra la fierezza di essere poeta quindi non c'è vergogna novecentesca di essere poeta non date bando a questa sua canzone quindi si difende dice attenzione questa mia canzone deve avere successo perché perché ha un aspetto pratico perché deve arrivare alla donna presunta o immaginaria che la legga e che finalmente mi liberi da questo servizio d'amore o meglio mi liberi nel caso dei trovatori mi prenda quasi fosse un vassallaggio a feudo diciamo d'amoroso bene io direi che abbiamo detto abbastanza ma tutto perché oggi sono andato nella libreria dei libri usati e mi compaio tutta una sezione di poesia medievale e romanza diciamo appunto feudale e romanza e dunque eccoci qui a commentarla ripeto c'è un altro libro se qualcuno me lo sa citare canto del qualcosa che è senza autore che c'è un altro libro Grazie a tutti.